Abbiamo incontrato l'ingegner Gentile di RFI, abbiamo ottenuto la possibilità di riprendere i lavori con un tavolo tecnico, con l'amministrazione, estendendo anche il tavolo alle categorie economiche del territorio vicentino. Credo che sia un buon successo da questo punto di vista. L'incontro è stato estremamente positivo, l'ingegner Gentile ci ha concesso di poter fare l'approfondimento a est, anche perché sappiamo tutti che a est non esiste il progetto, quindi dobbiamo capire dove va a finire questo treno. C'era una volta il giornale, poi è arrivato il web, c'era una volta la tv, poi è arrivato lo streaming, c'era una volta Vicenza Più, ora c'è Vicenza Più Freedom Club e Carta Web e TV vivono insieme per una comunità. Con Vicenza Più Freedom Club, l'editore sei anche tu. News, approfondimenti, libri, ebook, dvd, corsi e socialità. Entra in Vicenza Più Freedom Club come amico, partner o sostenitore. A partire da 9 euro a trimestre, aiuti il giornalismo a mollare i padroni. E il padrone delle notizie sei tu, sempre di più, con Vicenza Più Freedom Club.